Tutti quei monti che io cavalcavi e dai tedeschi pure stai seguiti so e sotto un'albero mi andrò, mi andrò metà e mi risvegliai in case no e sotto un'albero mi andrò, mi andrò metà e mi risvegliai in case no mi ha tenato alle mani ai piedi ed in quest'ora mi ha, mi ha portato ed in quest'ora mi ha, mi ha domandato per quel fine son prigionier e in quest'ora mi ha domandato per quel fine son prigionier io gli rispose così innocentamente e che vivevo un giorno raggiungo una foresta ed in quest'ora mi viene, mi viene in testa di non fare mai più soldat ed in quest'ora mi ha domandato per quel fine son prigionier si vuoi padre si vuoi padre perché siete molto e voi madre che diverti ancora sono prigionier si vuoi Romania vallare tuo figlio la tortura è condannato senza ragion se vuoi vallare tuo figlio la tortura è Grazie a tutti Grazie a tutti